Non lo conoscono, però, non so, Francesca, Beppe l'hanno conosciuto, a Blues Made in Italy, a Curbetta, Daniele credo che lo conosce benissimo, anche Adriano lo conosce benissimo, io l'ho visto il mese scorso e purtroppo ci ha lasciato ieri un grandissimo amico, forse uno dei più grandi lutei che fanno le cigar box in Italia. Ciao Gigi! Grazie!